Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Sulla statale 71 Umbro, Cacentinese Romagnola, strada chiusa al traffico in entrambe le direzioni per alberi sulla carreggiata tra Badia, Prataglia e Passo dei Mandrioli e Alpasso dei Mandrioli. Sulla statale 62 della Cisa, rallentamenti in entrambe le direzioni per lavori tra Santo Stefano Di Magra e Aulla. In A1 prestare attenzione alle perdite di carico tra Monte San Savino e Arezzo e tra Incisa Reggello e Firenze Sud, entrambe in direzione Bologna. Guidare con prudenza per il vento forte in A1 tra Roncobilaccio e Calenzano Sesto Fiorentino, tra Firenzola e Aglio e tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A15 tra Berceto e Pontremoli e Infipilli lungo tutto il percorso. Si ricorda che da oggi è in vigore l'obbligo delle dotazioni invernali a bordo. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!